Allora ragazzi, prima mi sono dimenticata di fare una premiazione di una squadra che domani non ci sarà, i terzi classificati del girono di Serie B. Ciaparat, Massimo Jordan, Geppi, Roberto, anche per il capitano, Angelo. Ha capito lo Serie B, lo vincuente proprio. Domani! Non ci sono domani. Eh, prende il capitano. Dov'è Geppi? Geppi! Prendeci, Giozbara. Angelo, tu sopra i capelli. Allora, da me, ti chiedo. Roberto, mi fai i capelli. Allora, dai. Buona, 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 buona. Grazie. Buona una, dai, buona una. Ragazzi, non si acchiappano. Dai, non si acchiappano. Non si acchiappano. Non si acchiappano. Il rullino, rullino, caldo. Il rullino, caldo. Ragazzi, a questo punto facciamo anche i secondi. Anche se domani saranno presenti. Scaraviare, Serie B. Buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. Bravo, buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. Marci. Buona Simone. Buona Simone. Buona Simone. i primi classificati di serie B e vanno a Udine quelli che la birra bravo 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 c'è anche la pizza bravo 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 no quelle cose avete anche una a quattro stagione non c'è la sagoma di brando ci c'è la sagoma non c'è la sagoma la pizza dei mar quattro stagione oppa oppa ciucca ha segnato la nuca quella eh la nuca la vogliamo la vogliamo sono un grafico coppia ha segnato la scuola a metà in da uno eh dai girala 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 le squadre di Serie C le premiamo domani ragazzi grazie